Perché le retribuzioni femminili sono mediamente più basse di quelle degli uomini? Per una serie di motivi. Il primo riguarda i settori in cui sono occupate in prevalenza le donne. L'esempio classico rimanda al settore delle pulizie, dove le paghe sono più basse se rapportate a un altro settore, mettiamo quello della logistica, dove invece gli addetti sono in larga parte di sesso maschile. Il secondo motivo riguarda l'inquadramento professionale di uomini e donne che operano sotto lo stesso contratto nazionale di lavoro. Essendo le seconde addensate nei livelli più bassi dell'inquadramento, il loro stipendio sarà mediamente ridotto rispetto ancora una volta agli uomini che occupano invece i livelli superiori. Il terzo motivo rimanda a quello che gli anglosassoni chiamano maternity gap, una sorta di pregiudizio sulla potenziale maternità. Se una ragazza e un ragazzo, entrambi in possesso di una laurea in ingegneria, si presentano a un colloquio di assunzione presso la stessa azienda, la prima si vedrà proporre uno stipendio di ingresso più basso per chi si presume che negli anni a venire si potrà assentare per maternità. Per cercare di azzerare questi meccanismi, le Camere hanno approvato di recente una nuova legge sulla parità salariale. Impone alle aziende dal 1 gennaio 2022 un obbligo di certificazione sull'equità di genere nelle retribuzioni e premia le imprese più corrette con sgravi contributivi dell'1%. Allora, noi diciamo tanto la maternità perché noi c'è un paese che sta spegnendo e poi però una donna lavora, è capitato che una coppia di gemelli laureati nella stessa università, tutta questa trattata, alla fine a lui offre uno stipendio maggiore che a lei. Certo, pesano i pregiudizi, gli stereotipi, pesa anche quella valutazione che è stata richiamata, pesa il fatto che una donna avendo gran parte del carico familiare sulle spalle ha più difficoltà a cogliere anche l'occasione che la carriera offre, per cui quando passa un treno spesso lo deve lasciar passare. Per questo è stato fatto uno stanziamento in questa legge di bilancio di 50 milioni di euro per iniziare a incentivare le imprese che fanno più attenzione a questo aspetto. In che senso? Nel senso che ci sono percorsi attraverso i quali viene garantito l'eguale accesso delle donne e degli uomini ai diversi livelli professionali e in questo modo c'è una procedura di certificazione e sulla base di questo viene riconosciuta il diritto all'incentivo. Poi però c'è un altro aspetto che è quello fondamentale che dovremmo risolvere, io spero, con l'attuazione del PNRR che sono le cosiddette infrastrutture sociali. cioè laddove nelle regioni italiane dove ci sono più asili nido dove ci sono più servizi per gli anziani le donne fanno più carriera e sono mediamente più occupate. Sembra una banalità ma non la è affatto. Poi c'è la questione anche, l'abbiamo visto con la pandemia che nel mondo del lavoro le donne mediamente sono quelle più occupate con contratti a tempo determinato, tant'è che sono quelle che hanno perso più spesso il lavoro dopo la pandemia. E anche qui c'è il tema di come si contrasta la precarietà. 6 dicembre l'anno scorso, ma da memoria, 100 mila, 90 mila, erano donne. Erano donne. E lì si tratta di lavorare anche sul tema della precarietà perché più precarietà è più penalizzazione alle donne mediamente. Questo è un altro aspetto importante. Io credo che vadano rivendicati due risultati. Uno, l'ho detto, è un importante investimento sulla certificazione, ma gli altri più strutturali sono questi. Nel PNRR abbiamo messo una clausola per la quale le imprese che partecipano a quel piano devono assumere almeno il 30% di donne. Perché è chiaro che le donne... In cambio che cosa hanno? No, è la condizione. La condizione per la quale possano partecipare devono garantire il fatto che ci sia almeno il 30% di donne tra i loro dipendenti. E l'altro... Cioè per avere i contributi al PNRR? Certo, per partecipare al PNRR. Però il 30% di donne ce l'avranno quasi tutti, mi immagino. Beh, no, in alcuni settori ci pensa il 30%. In alcuni settori hanno molto di più del 30%. In alcuni settori invece il 30% è una cosa da conquistare. E poi l'altro aspetto che credo sia importante è che abbiamo introdotto una riforma degli ammortizzatori sociali che estende gli ammortizzatori sociali alle imprese sotto i 5 dipendenti. Torniamo al ragionamento di prima. in quella nicchia, soprattutto terziario, che è prevalentemente fatta con una forte presenza di donne. Ammortizzatori tradotto la cassa integrazione, no? La cassa integrazione è anche un'estensione della Naspi per il lavoro precario. Lì siete partiti bene con la pandemia quando l'avete data anche alle imprese che avevano un dipendente. Sì, però naturalmente in una situazione ordinaria c'è un tema di controlli, di trasparenza, di contribuzione perché quella cassa là era gratis mentre questa è in parte pagata anche dall'impresa e dal lavoratore. Però è un modo di... Più si estendono le garanzie, questo è il problema fondamentale, per come è fatto il mercato del lavoro italiano e più si estendono le infrastrutture sociali, cioè quello che succede fuori dal lavoro, più si estendono i contratti integrativi che per esempio riconoscono meccanismi di welfare delle imprese, più si garantisce l'accesso delle donne al lavoro e anche il fatto che le donne possono fare carriera perché il fatto che facciano meno carriera è anche conseguenza del fatto che mediamente lavorano di meno, hanno un tasso di occupazione più basso. Se si riuscisse a riempire di asili nido il sud, le vedrebbe che... Assolutamente, ma le ripeto, nel PNRR ci sono 4 miliardi di euro per realizzare gli asili nido, ci sono importanti investimenti sull'RS. 4 miliardi, lo ha da memoria, ma dovrebbero essere il piano completamente realizzato, il piano degli asili nido in Italia. 4-4 miliardi, io mi ricordo che già con un miliardo e mezzo si riuscirono a fare moltissimi. No, beh, insomma... Con 4-4 miliardi si dovrebbero risolvere i problemi. Io quando parliamo di miliardi come nozzoline mi viene sempre in mente il fatto che spesso i soldi sono arrivati nel corso degli anni ma non sono stati spesi, quindi a tanti o pochi bisogna vedere quanti ne riusciamo a spendere in tre anni. Questa è la vera preoccupazione.